punto d'oro, punto d'oro contro una Juventus non strabiliante ma che comunque che vi piacciono la Juventus è una delle candidate per lo scudetto di quest'anno e che comunque la Juventus le sue occasioni le ha avute come per esempio il gol annullato di Rabiot ma di questo ne parliamo dopo. Ieri sera la Sampdoria onestamente mi ha stupito perché una Sampdoria con questa cattiveria del genere non la vedevo da tanto tempo, non la vedevo da tanto tempo. Cioè ragazzi basta pensare che la Juventus si è schierata con una difesa a sette. Loro che sono quelli forti si sono schierati con una difesa a sette con Kostic e Quadrado più arretrati e voi direte ma come? Eh sì! Cioè una roba pazzesca, pazzesca! Allora nel primo tempo obiettivamente abbiamo dominato noi e secondo me meritavamo un pochettino di più anche perché ovviamente all'inizio del primo tempo non potevano mancare i nostri due legni quotidiani dopo quelli contro l'Atalanta. Il primo legno è stato quello di Leris che qua ovviamente il francese è stato un pochettino sfortunato perché comunque sulla parata di Perin la palla anziché entrare è andata sulla traversa. Qua il francese un pochettino sfortunato che però nonostante la traversa ieri ha fatto una partita veramente sopra le righe. Molto spesso noi tifosi l'avremmo criticato e sottovalutato però fidatevi che se diamo fiducia a questo ragazzo probabilmente sarà l'arma in più di questa Samp. Il secondo legno è stato quello di Vlaovic. Pensate un po' di Vlaovic. Praticamente su azione da calcio d'angolo Vlaovic ha buttato la palla sul palo e però Mortacci sua poteva farsi autogol. Vi sembrerà strano ma immaginate un attaccante di questo calibro come Vlaovic che si fa autogol regalandoci la partita. Sarebbe stato fantastico. Ieri sera Vlaovic era irriconoscibile ma soprattutto perché ha trovato il suo incubo ovvero Omar Corley. Grande Omar! Sempre nel primo tempo però anche la Samp rischia molto. Infatti dopo un errore clamoroso di Augello Quadrado stava per segnare e sua azione che però Audero come sempre dice di no e fa del suo grande Emil. Nel secondo tempo invece la Juve ha avuto più occasioni da gol. Infatti secondo me si è aperta di più e soprattutto sul gol anche se annullato o dirrabbiò. Qua allora Rincon ha fatto una grande belinata ma io ancora mi chiedo cosa sta facendo Rincon da quella parte del campo? Cosa sta facendo? Cioè stava ballando in mezzo ai giocatori della Juve così si faceva fare il contropiede per poi farsi fare gol? Rincon svegliati però perché qua se Vlaovic non fosse stato in fuorigioco ci avrebbero fregato la partita alla classica cortomuso scusate poi però il gol è stato annullato giustamente per fuorigioco di Vlaovic non di tantissimo però comunque il fuorigioco c'era ed era anche netto. Verso il novantesimo o tipo all'incirca all'ottantasettesimo quando ho visto Kostic solo ho detto oddio ci hanno fregato la partita e invece no perché il grande Emil Audero ha detto di nuovo di no e ci ha salvato un'altra volta le chiappe grande Emil, grande Emil. Audero l'avrò criticato spesso o come per esempio nella reazione dallo stadio di Sampdoria Salernitana se non l'aveste ancora visto andatelo a rivedere perché è divertente proprio in quel video avevo urlato Audero mai più titolare, Audero mai più titolare ma oggi ragazzi Audero ha detto la sua, ha fatto la sua partita ed è stato veramente determinante e senza di lui probabilmente ragazzi non avremmo mai pareggiato questa partita. Detto questo per oggi il video finisce qui e mi raccomando vi vogliamo sempre così, vi vogliamo sempre cattivi così, adesso testa a Salerno, adesso vogliamo i tre punti, vogliamo i tre punti. Iscrivetevi al mio canale YouTube, lasciate like al video e niente ci vediamo senz'altro in un mio prossimo video, ciao!